L'omini sono tutti per fronte, ecco allora, non troveremo più un marito, come adesso? Parlate di voi, che bambini le ho, per me. E chi state a piaccicare? Ma niente, non c'è niente di importante, ci stavamo solo a preoccupare. Che? 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 Ma non è il mio amico? Ma voi ci avete ben altri morcoli per la testa, ma state attente che le bugie hanno le gambine corte. Con tutto il rispetto, Don Padri, io avevo sentito che le bugie ci hanno pure il naso lungo, e da quel che vedo, qualche bugia mi la vostra vederetta, eh? Non senti questo impertinente? Piuttosto, preparamose per il destro, e già che ci siamo, una bella chiacchierata in confessionale. Se fossi scema, io di mercati mia, devi consegretare la Madonna. Lei mi capisce senza farmi un predicone. Oh, ma è possibile che proprio a noi ci doveva capitare un parroco così in piccione? Eh, cazzo fa, fa il prezzo. Ho capito, ma io c'ho tanti pensieri per la testa. Spero che se l'uomo mio torna dal fronte, in chiesa la Madonna del Carmelo, gli porto una candela alta come un arbero. Fior dei limoni, se l'uomo mio ritorna dalla guerra, in chiesa io ce vengo a ginocchioni. Fior del gioco, mi ha scritto l'uomo mio da lontano, senza erete mai io, se l'uomo sono. Oh, mamma mia, quanto siete su mie l'arte. Magari come stanno passando all'anima? E loro, dico, l'uomo, si stanno a divertire. Ah sì, eh? E allora questa gliela non scontenta. Anzi, gli estrascono le orecchie, le usa come la saponetta e c'è troppino i panni finché non vengono bianchi, immacolati. Sì, perfetto, ma se fossi in te io non riderei più di tanto. Le case non ti dicono niente di buono riguardo all'amore. Ah sì, è così. E allora, sentite questa. Il figlio è davvero, si mette e prende in giro, e non sei sincero. Ti rompo la capoccia, te lo giuro. Le ore di viola, se l'uomo ti danno solo pena, ma da merenza a me rimani sola. Certo che l'amore è bello, ma l'amico so pure una sofferenza. Perché so come le creature. Pure a 40 anni li vedi che giochino per strada come dei ragazzini. Ma che c'è di male? I ragazzini si divertono con poco. Esatto, poco cervello, facile rivestimento. Sarà, ma intanto gli scemi di lavori più duri li lasciano qua a noi. Eh, stavamo ragione. Infatti rimettetevi a fare faccende, va, che il vespre è pure finito. E voi altre, perché siete venuti al vespre? Il pesce è semplice, don Fabrizio. Noi ci avevamo da lavorare. Che ce li lavate voi, i panni? Ma io al massimo vi posso lavare la coscienza e mi pare che ci sarebbe proprio tanto bisogno. Guarda, piuttosto prepariamoci per la festa di domenica con un bel canto dedicato alla Madonna tutte quante insieme. Faccio fare la tua vista, don Fabrizio? No, l'ha provata Rosetta. Guarda, piuttosto prepariamoci per la festa di domenica con un bel canto. Guarda, piuttosto prepariamoci per la festa di domenica con un bel canto. Guarda, piuttosto prepariamoci per la festa di domenica con un bel canto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.